Qui siamo nel Parco Nazionale del Circeo, alla zona è la Bufalara e come ogni anno abbiamo organizzato spiagge pulite, Tegambiente organizza questa campagna nazionale in cui per l'appunto volontari, amici, scolareschi si riuniscono e diamo il buon esempio, puliamo un tratto dell'Arenile dall'Immondizia, dalla Scorcisia, una spiaggia meravigliosa dove appunto Immondizia non dovrebbe esserci e invece si trova di tutto. Quest'anno è una iniziativa particolare, la facciamo insieme all'Istituto Armonia, l'Istituto Armonia si occupa di fisioterapia per ragazzi disabili e vi sono circa 20 ragazzi dell'Istituto con disabilità più o meno gravi, ci danno una mano, è un esempio straordinario di integrazione ma anche un segno di civiltà perché insieme diamo il buon esempio ed è un'occasione anche per denunciare la scarsa accessibilità alla spiaggia del Parco Nazionale del Circeo dove esistono passerelle rotte, pericolose, questo è un luogo che deve essere pienamente fruibile per chiunque, ragazzi, anziani, diversamente abili, è necessario renderla aperta, pulita, fruibile, è una ricchezza per la collettività, la gente ha risposto in maniera straordinaria, è piena di ragazzi, è piena di gente che passa una domenica pulendo ma anche divertendosi ma anche praticando un impegno di educazione all'ambiente che è importante.